Simone D'Angelo è stato riconfermato presidente dell'Endas Abruzzo per il prossimo quadriennio, una bella soddisfazione con l'obiettivo di proseguire il lavoro iniziato alcuni anni fa. Sì, sicuramente una bella soddisfazione, confesso che mi sarebbe piaciuto celebrare il quadriennio che è finito l'altro giorno in maniera diversa, ma purtroppo questa emergenza sanitaria non ce l'ha permesso e quindi ci siamo dovuti accontentare di una piccola cerimonia, una piccola assemblea elettiva che però ha sempre il suo significato. Noi abbiamo passato il 2020 ad ascoltare il grido delle associazioni che ci hanno chiesto aiuto perché purtroppo la crisi è stata per tutti, soprattutto per il mondo di persone che si mettono insieme per costituire un'associazione per finalità nobili e quindi sono ancora più colpite proprio per questo motivo, perché il mondo dell'associazionismo è fatto di volontariato. Ci auguriamo che il 2021 porti intanto una ventata di ottimismo e di serenità a tutto il mondo delle associazioni, ma soprattutto che questa crisi sanitaria possa finalmente abbandonarci in modo che tutti quanti possiamo riprenderci in mano la nostra vita. Chiediamo al governo che possa darci una mano innanzitutto per far sì che i nostri uffici possano continuare a funzionare, anche perché non dimentichiamoci che molte associazioni non hanno la struttura amministrativa per poter gestire sussidi, per poter gestire collaborazioni sportive, collaborazioni di altro tipo e quindi dobbiamo essere noi a dargli il giusto supporto e senza un aiuto economico questo giusto supporto non riusciamo a darlo.